Sono Nicola Capone, mi occupo di filosofia, insegno filosofia al liceo e all'università invece sono impegnato nella ricerca della filosofia del diritto, mi occupo del rapporto tra il diritto e lo spazio, come questi due strumenti, questi due luoghi delle relazioni umane si condizionano reciprocamente. Sono qui a XYZ, in modo particolare come docente di Z, per programmare, progettare un modello di gestione, di governo, di uso di spazi nuovi, di spazi ineriti, di spazi presi, fatti e da fare. Quello che è importante e che ci sono detti in questi giorni è la nuova idea di spazio, lo spazio non è qualcosa che ci sta di fronte, non è qualcosa che noi occupiamo e che ci è indifferente, lo spazio ci costituisce, dunque il tipo di spazio fa il tipo di relazione e il tipo di relazione fa gli esseri umani che siamo. Allora ricostituire lo spazio, rifare lo spazio significa ripensare quello che vogliamo essere come umani, le relazioni che vogliamo ritessere come umani, non solo tra di noi, ma con tutto ciò che umano non è, che non umane non è mostruoso, ma è il mondo intorno a noi di cui siamo fatti, penso in modo particolare agli ecosistemi che in questo momento sono all'angolo, sono in difficoltà. Ripensare lo spazio significa ripensare anche gli strumenti con cui noi abbiamo fatto lo spazio, il diritto è uno di questi strumenti, il diritto si nutre di spazio, nella sua definizione filosofica il diritto è fondato nell'uso che si fa dello spazio. Ora dentro la logica moderna l'unico strumento per fare lo spazio e disegnarlo è stato quella della proprietà privata esclusiva dello spazio, che ha fatto dimenticare, ha fatto cancellare a intere comunità, anche a intere i paesi, un altro modo di disegnare lo spazio che è fatto su una idea non proprietaria, su un'idea non esclusiva dell'uso dello spazio. In questo senso il diritto diventa uno strumento utile per rimuovere ostacoli che abbiamo diante noi per disegnare relazioni di tipo diverse. Il diritto come lo stiamo pensando qui è uno strumento fatto, non è uno strumento subito, è un altro di quegli strumenti utili e a servizio di quello che vogliamo essere, di quello che vogliamo fare. È un altro strumento come lo spazio di cui ci dobbiamo riappropriare perché ne siamo stati espropriati e i danni che produce un diritto tutto proprietario, uno spazio tutto fatto per il consumo e l'egoismo proprietario, gli effetti di questo tipo di strumenti sono ormai sotto gli occhi di tutti e hanno una portata devastante. Abbiamo bisogno di essere, come dicevamo ieri, essere favolosi e favolose e per farlo abbiamo bisogno di rifarci un mondo.